è pensare che l'obiettivo non è far gol ma mettere in campo il tuo paese, mettere in condizione il tuo paese di far gol forse in dei momenti vale più il passaggio che il tiro e soprattutto io penso che se uno si fida dei suoi compagni questa partita sia ampiamente vincibile a me piace cambiare le cose, a me piace che il mio paese sia il più forte del mondo non sia il paese che non faremo la fine della Grecia io non voglio rimacchiare, io penso che fosse giusto e continuo a pensarlo che gli italiani potessero esprimersi su una gigantesca opportunità di accelerare la crescita del nostro paese e se c'è una regione che ha bisogno di cambiare, questo è il mezzogiorno e se c'è una regione che più di ogni altra ha bisogno di cambiare perché così ha un tasso di disoccupazione che non funziona a una situazione che non va, questo è la parola se volete lasciare le cose, chi potrà lasciare le cose come state se siete contenti di come va, amici come prima non preoccupatevi per me, io mi fido dei miei compagni se ce la mettiamo tutta andiamo a vincere Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia e vi saluto a tutti Grazie